Ecco, adesso mi teletrasporto di nuovo nel veicolo appeso al nulla, ok. E che sicuramente è un checkpoint migliore del merda di checkpoint. Raccattato. Guarda che bel fucile da cecchino che c'ho. Quanto è grosso, Mikis, che non lo vedo. È bello lungo, per dire. Ma no, Mikis, guarda che è cortissimo, c'ha il cavallo ad altezza... No, no, il mio fucilone. Ah no, credevo dicessi proprio il personaggio di Mikis. C'ha il cavallo talmente vicino al terra che se scoreggia... Occhio! ...è il primo a sentire. Come senza munizioni? Ma no! Minchia, fa malissimo sta pistolina, ci mette un quarto ad ora. La mia toglie 100 erotti e poi fa prendere fuoco. Ho finito i preghetti. Io ho i danni esplosivi con sta pistoletta. Anch'io li avevo, li avevo. 67 più 34 di danni, per dire. Che emozione. Mi piace sta pistoletta, mi piace. Padro. Sciccolato un po' di roba. Però comunque è da un'altra... E' qua sopra, eh, volendo. Qua sopra, sì. Sarà dentro un culo di... Un culo del culo di... Come ci si arriva all'uncino? Tipo così? Non credo. Dov'è? Questo? No. Tutti sti cadavere li avete fatti voi in mia assenza? Sì. Ah no, non c'erano già, dai. Ah ma è questo! Non era morto. Ah questo! Sì, io gli sparo. Diciamo, non sono perso, aiuto? Tu ti fai le domande, io sbarro. Faccio un pisolino. Ma attenzione, si taglia con un grissino. Ok. Ah no! Oh, è un uomo, non c'erano. E beh, pare giusto. Mi avrebbe fatto piacere. Scusa, e se invece ce ne scappiamo con il nucleo? E lo vendiamo alla morabita? Dov'è? 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 La zona verde. Un cerchio verde. Mi sono infilato in... E io dietro di te, tra l'altro. Va bene. Posto in chiapattisimo. Uh! Niente, non piace mio. De nà, mio. Qua non c'è niente. Oh! Qua giù c'è un paesino. Quanta gente. C'è gente che spara, pure. Wind Breaker Camp. Io allora vengo da lontano. Boom! No, perché mi avete sparato? Avete sparato al bottom in 3. Ho fatto il culo al nomade con... Un po' di pulpi. No, adesso ci metto 6 ore per riprenderlo. Che palle. Io intanto uccido gente da lontanissimo. Sì, anch'io vorrei se non mi ciulassi le uccisioni, tipo. Ma vaffanculo. Mi stai ciulando tutti... Eh, beh, se soffrò soffrò. No, l'abbiamo già detto. Ah, mia, con 3 colpi li uccido. Lo abbiamo già detto. Con un colpo li uccido. Ahia! Che cosa cazzo fa? Lancia da 800 chilometri. Ricolto. Ah, ecco. Sei arrivato? Sì, sono sotto. Ecco, noi stiamo sparando da 10... Cattanoia! Tu sei arrivato tranquillone e hai rubato tutto. Cosa è successo? Oggi non sto seguendo tanto la tramite, voglio dire la verità. Quasi che io sento l'audio, se... Eh. Ma quindi scendo? Arrivo. Eccomi. Ma prendo l'esperienza anch'io. Prendo tanti punti di esperienza anch'io. Che quanto fa male, sto fuci la pompa. Uccidete, uccidete, che prendo punti di esperienza anch'io. Denaro, denaro. Ah no. Nel rama. Niente. Uh, eccoli. Ciao, amici. Predatore impazzito. Emma. No, ma perché tutte le volte? Colare sempre con questa facilità. Arrivo io, va là. Anche perché non riesco a ucciderlo, lo stronzo. No, perché mi stai uccidendo tutti... Porca miseria. Ah, ma sei tu quello. Ah, sei una merda due. No, sono il nuovo bagage. Ma cazzo merda. Ma quanti ce ne stanno? Vengo, vengo io. Oggi la resistenza perso... Ho finito. Sono sicuro che Aris avrebbe fatto piacere sapere come mi hai spazzato via quei bloodshot. Eh. Peccato che io sia a 10.000 km di distanza. Ma ancora ce ne stanno? Porca zozza. Dove sono? Che cazzo? Sanna che botte che c'ho. C'è ci sono? C'è ci sono? Ci sono di spawn point a 10.000 km di uno dall'altro. possibile No, lotta per la vita Vabbè, che Non ti conviene tanto morire, sai Ah no Perché sei veramente a 10.000 km Rocaforte Della resistenza Grazie No La vostra morte sarà rapida Non vedo dove siete Grazie, no, chi è? Lo sta Un coglione Lo sta, pistola mitragliettrice è una figata Cioè, Michele che sta morendo, oh Oh, aspetta Non te l'ho vista Perché in confronto a quello che ho fatto io Merda, che non siete altro Vi conviene rimanere in vita Perché se non siete a Bagash Sta arrivando uno Poi mentre prende fuoco Guarda, posso Sto mitra è fichissimo Spawn un'area a 10.000 km E c'è quello che fa prendere fuoco Che spacca il culo Guarda un po' dove cazzo devo finire Quanta roba c'è ancora? Stiamo massacrando dei ciccioni in maniera incattivita Perché tu giochi proprio così, allegramente Ma fa culo E vabbè, anzi Ciulliamole tutta la roba che esiste Ah, ben arrivato, eh Cosa fai? Una volta tira granate come i bambini Sto cercando di uccidervi Perché non c'è il fuoco amico in sto cazzo di gioco? Cioè, c'è in DayZ Perché staresti già morto? Oh, che era quella roba? Ah, e poi io posso rivalermi in DayZ È vero No, come pieno? No Mi trovate con una pistola in testa Una pistola in testa Allala, 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 veloce Preso No, bastardio Preso Dav'è l'affanculo a tutti quanti all'altra parte E quando vi troverete un colpo in testa su in DayZ Ricordatevi che è per questo Ricordatevelo Io sono io, sei tu Cioè, la lotta prende la roba Ricordatevelo Che figato è quel fucile che hai preso Anche voi che vedrete questo video Se un giorno vedrete in DayZ Mi giro E sparo in testa uno di loro due Sapete per quale motivo Io l'ho già fatto Sì, ma tu per sbaglio Io t'ho preso con l'accetta un giorno Io t'ho preso benissimo in testa Quello non è ancora uscito Sta per uscire Ma non è ancora successo Non spoilerate Eventuali uscite Non è ancora successo Non è ancora successo Né uno né l'altro Però vedrete cose Vedrete un sacco di azioni E come dicevo prima Vedrete anche due inquadrature Doppio inquadrature Nooo Io che t'ho preso in testa Qua c'era una macchina Avevo lasciato una macchina Chissà dove tra l'altro Questa casetta che cos'è? Ma non è una casetta È una macchina Fabio è rimasto indietro Sto sistemando un po' l'inventario E poi devi aspettare Sistemare l'inventario Ok Stiamo tornando alla base Arriva, arriva Quelozissimi Battendoci nella ciolla Cos'è quella fare Grosso che Cazzo che grosso Ho capito cos'è Quello affare grosso Aiuto Aiuto Eh son cazzi Acidissimo Oh ma è una già muore Aiuto Ma te guarda Vedete cosa c'è qua davanti Eh beh Io stavo rimasto Senti quando l'inventario Voi giocate No Ne ho tre davanti Dai Ma cos'è Ma è un orgio Ma dai Ma no Ma no C'è sta Io non vedo nessuno Non vedo Sì ma tu dove sei Michis Perché io Sono imboscato al volo Ragazzi Merda tre Della giornata Ma sto lì Aspettare Mi viene a dare una mano Cazzo Merda Super mostrone gigante Ma dove sta il mostrone gigante Io non vedo nessuno Ecco Arriva E si ciula i soldi E mi sembra giusto Passavo di qua Intanto Ma quale c'è sto L'hanno fatto Un cassino Non c'è niente Come no Guarda Ce n'è uno C'è uno Immenso Di mostro Ma Ma Il solito è checche Checche lagnose Cazzo è un fucile esplosivo Mi state sul cazzo E qualcuno mi ha inculato Mi state sul cazzo Poi adesso Fu uscire esplosivo Se no Farà merda Te lo lascio pure Non lo voglio Sparatevi Tutte a due Quindi? A parte che vi odio A morte E che Non vi conviene Entrare in DayZ Nemmeno a te Perché No 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 Stai tranquillo Lo farò come a te Nell'ultima puntata Che abbiamo messo Uno che arriva lì E ti dice Sto venendo A prenderti Ti giuro Io mi sono cagato Addosso Hai fatto bene Perché c'era Questo con la Uccita Vodafra Che faceva Tipo It's coming It's coming So for you Mol taci la risposta You are so beautiful Gli hai detto Oh minchia Ai 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 You are so beautiful You are so beautiful Non gli hai detto You are so beautiful A lui Oh you are so beautiful So Perché Oh no Che guida Oh no It's fair Tanto hanno Sono rispawnati In allegrezza Nella base Quella là Famosa Nooo Sto per morire Una mano? Dove sei? A 10.000 km da voi Credo Vabbè Una mano Che pretende Anche un piede da là Arrivo io Che so pro Sono vivo Sono vivo Un bel ragazzo Che cazzo è Sono arrivati Due piscuani E tra l'altro Non mi vengono Neanche io Uccidono il nemico Così io Non posso Curare E non mi vengono A curare Vado stai Io manco lo vedo Sono a fianco Ti aiuto io Amico Mentre uno investe Io cuno Sto cazzo Qua Aia Ok Questa pistola Com'è? Mi piace? No Mi piace No sì Forse sì Mi piace 30 No Mi piace Allora Che punto siamo Ce ne stanno Ancora due Io dovrei prenderle Queste armi Qua L'altra macchina Non c'è Ancora il gigantone Un nomade C'è una a destra Volano curativi Andiamo Volano curativi Qua Come stai andando? Eh sto cercando Da prenderlo da dietro Eh Come diceva Saratino Ecco Come dicevano Saratino Come diceva No Sto cercando Di prenderlo da dietro Vabbè Ecco A posto Pulitto A posto Ma non è là che dobbiamo andare Non è più I buchi liberi Che dicevano Saratino Stando da piedi Oli AIA Andata a piedi Una mazza Dove vai Cacchiera Sì sì Fa anche quello Che torna indietro No no Cosa stai sparando Bastardo Vieni qua Catroia Sai che fa bene Passeggiato Tu Non fa cagare Oggi vi ho insultato Anche troppo Per oggi Vi ho insultato Il giusto AAAAA Il cactus Mi sta sparando Adesso ti viene un rack E ti prende in pieno Nel coppino E io Rido ALEEEE Sono entrato al volo SUKA 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 Adesso ti sparo Sparo a te Non posso Che cazzo Dove sei? Ti muovi a cazzo E io non riesco a uccidere I nemici Tra l'altro che non ha cazzo Intanto sto saccheggiando Mentre voi perdete tempo Ne ho ucciso uno Dai portami a casa Comandante Torniamo a casa Spariamo a quell'uomo A quell'uomo sono io Spara a quel culo basso Vai Questo? Questo? Sì, questo culo basso Oh, si è incastrato No, 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 no Ma che pippa di guidatore È tutto sotto controllo Tutto? Siamo morti Insomma, siete morti O sono morto solo io? Sì, per te, così poco Ah, no Resta lì, minchia Ah, presto di arrivare Però siamo qua Entra, presto Ah, ma siamo arrivati nel punto giusto Sì, siamo arrivati nel punto esatto Fantastico Ma siete dei cazzoni, comunque Oh Quest'arma qua la vedo bene Aspetta, vedo un'arma bene Ma neanche troppo E nel frattempo mi stanno stuporando No Non è male questo Facciamo che che è, no Fammi sputtare quest'arma qua Tipo questo Ok Perché non riesco a uscire Preso Mitagliatrice runner Questa era meglio Io vi aspetto a voi, eh Con calma, comunque Stiamo sistemando tutto qua Perché noi valiamo Quando vi pare Quando vi pare No, dov'è? Ma perché? Stai nel menu È un menu Stato, sta di merda Perché vedo che è l'unico Stai per morire di tutti 3, 2, 1 Buon Natale Stai per morire di tutti 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 Grazie a tutti.